Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi oggi siamo qui con un nuovo video tutorial su come proteggersi dal print nightmare cioè questo, non so precisamente che cosa sia, ma è una minaccia per i nostri sistemi operativi quindi Windows 10, Windows 7, Windows 8, 8.1 e altre varie edizioni di Windows 10 Allora, non fate come me che andate su Windows Update e rimanete sospesi gli aggiornamenti per un paio di mesi io ho tenuto sospeso questa specie di aggiornamento da... parecchio, sì, parecchio quindi riprendete tutti gli aggiornamenti perché è molto importante aggiornare Windows 10 e proteggersi da questa minaccia mi raccomando, fatelo, se no perderete tutti i vostri file, attacco hacker, tutti questi problemi che poi non riuscireste più a risolvere quindi, sì, fatelo, fatelo e basta, senza storie quindi, aggiornate il vostro Windows 10 quindi, la Microsoft ha lasciato così questo pacchetto per aggiornarlo sì allora, vediamo un po' cosa ci dà ok, questo è di Net Framework ok e poi si sono verificati i problemi durante il download di alcuni aggiornamenti ma verrà eseguito? ok, va bene possiamo riprovare più tanti quindi detto questo, mi raccomando aggiornate il vostro Windows 10 io l'avevo già fatto in passato quindi questo Prime Nightmare non si prenderà il mio sistema operativo quindi il mio PC se lo può anche scordare e niente, grazie a tutti per questa visione mi raccomando, fatelo, fatelo è molto importante aggiornate e aiutate i sistemi operativi di oggi quindi, fatelo fatelo quindi, grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video quindi, ciao 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 ciao